Cede di schianto tra le muramiche del Mancini l'Alma Juventus Fano, battuta con un 3-0 che non lascia spazio a recriminazioni dal Tivoli in uno scontro di fondamentale importanza per le zone basse e la classifica. Con Gonzales assente per squalifica sulla mediana a ispirare la manovra della squadra granata, oggi in maglia bianca, la formazione di Rondine è apparsa smarrita e a corto di idee, pur volenterosa nell'approccio all'inizio delle due frazioni, col passare dei minuti ha evidenziato anche un'insolita fragilità difensiva che ha permesso alla formazione naziale di portare a casa i tre punti che le permettono di agganciare in graduatoria proprio la squadra fanese. Con Padovani e Cardinale in panchina, dopo una settimana passata a combattere con i fastidi fisici, il tecnico di casa sceglie Zanni per sostituire il regista argentino e in avanti propone il duo Tencorang Brunetti, mentre all'altra parte il neo allenatore Granieri arrivato sulla panchina del Tivoli da dieci giorni rinnova tra i pali la fiducia a Zappalà. Direzione di gara affidata al fischietto toscano Neccioli. L'alma parte con buone intenzioni prendendo subito in mano il comando dell'operazione al centrocampo e dopo cinque minuti va al tiro Gozzanni, che servito da una punizione corta di Antonioni può avanzare per tentare il destro ai 20 metri, pallone angolato su cui Zappalà si deve distendere per mandare in angolo. Resterà a lungo questa l'unica occasione della prima frazione dei padroni di casa che col passare i minuti mostrano geometrie troppo prevedibili per impensierire la decisa difesa ospite, che riesce a evitare i rischi e prende coraggio superata dalla mezz'ora affacciandosi in avanti con un paio di puntate offensive che crea un affanno alla retroguardia di casa che al 35esimo si fa sorprendere sulla discesa a destra di Juegens che dal vertice destro lascia partire un cross preciso per Maurizzi che all'altezza del primo palo schiaccia bene di testa infilando il pallone alle spalle di Viscovo per il vantaggio. La reazione del Fano è timida e farraginosa portando solo un paio di insidie prima in riposo quando Tencorang al 43esimo lanciato al rimpallo viene chiuso in angolo al momento del tiro e poi nel primo minuto di recupero con Tomassini che prova la girata in mischia ma manda alto. Dopo l'intervallo i padroni di casa lasciano negli spogliatoi Antonioni e Brunetti per far spazio a Malsce e Cardinali e dopo un inizio promettente vanno vicini al pareggio proprio con il neo entrato che dopo 5 minuti alla fine di una serie di carambole gira di testa a colpo sicuro a pochi passi alla porta ma l'estremo difensore ospite ha un riflesso straordinario e salva in corner. L'alma prova ad insistere ma il Tivoli si compatta bene e lascia pochi varti alla manovra di Urbinati e compagni che col passare di minuti perdono la determinazione dell'inizio concedendo spazio alle ripartenze ospiti al diciannovesimo subiscono il raddoppio quando su una rimessa laterale a destra Maurizzi riesce a tenere in campo il pallone prima che termini sul fondo servendo all'indietro il neo entrato De Marco che dal vertice dell'area piccola piazza la zampata del 2 a 0. La reazione dei padroni di casa è timida e poco convinta il Tivoli controlla e al 28esimo mette al sicuro il risultato con la rete di spirito anche lui appena entrato che approfitta delle incertezze della difesa di casa per fissare il punteggio sul 3 a 0. Scoraggiata e contestata ai fosi che se la prendono in particolare con la dirigenza famnese l'Alma non riesce a produrre occasioni neanche per il gol della bandiera rischiando anche il definitivo tracollo sulle ripartenze ospiti che però non concretizzano accontentandosi del rotondo tris che permette ai ragazzi di Ranieri di invertire la rotta dopo 5 sconfitte consecutive mentre dovrebbe preoccupare non poco la società gradata l'evidente involuzione di una squadra che sembra aver perso la propria identità dopo l'addio in panchina di Scorsini che oggi è davvero apparsa irriconoscibile. Grazie